che si può fare fino a 24 persone quindi se vuoi chiamare parenti, amici ci facciamo pure un salame abbiamo anche Totò a pesca però non c'è wifi lui sarà là piglia poco ho provato a cercare anche Martinoni che ieri mi ha fatto un pollicione per questa cosa di domani Martinoni è come quello lì col cantante che è andato 12 giorni lui, uguale solo che da due settimane caccia Reseto mamma mia mamma mia fate un sorriso? eh? che belli non so ha creato un'istantanea non so come faremo domani non so come faremo domani, vabbè proviamo io mi aspetto volentieri a questa gruppa di cacciara la fascettina però potresti vestirti esatto tipo Jane Fonda c'è una roba così sapete con chi sapete con chi prova oggi gli esercizi di domani? ragazzi lavoriamo per voi me li fa provare l'aiuto commenti oddio meglio di no anche se qui non è meglio di no va bene ragazzi provi l'esercizio Jane Fonda e ci si becca domani la vita tua stupiscici bravo bravi 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 vi voglio bene ci vediamo domani ciao 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 ciao